Dinceco, è arrivato lo stop al bando che riguarda le periferie, lo stop dal governo Lega 5 Stelle. Voi però oggi chiedete addirittura le dimissioni del sindaco di Pescara Marco Alessandrini, perché? Tutti i partiti presenti in Parlamento hanno votato quell'emendamento che ha posticipato di un anno i progetti che erano stati finanziati in una seconda tranche, cioè quelli che andavano dal 25esimo posto in poi. Quindi bisogna essere bravi nel comunicare le cose, non bisogna dire le follie e soprattutto bisogna capire che il PD ha votato quello stesso emendamento insieme a tutti gli altri partiti che erano presenti in quel momento in aula. Quindi è un emendamento votato all'unanimità perché evidentemente c'erano delle situazioni che non collimavano con la realtà. C'era una pronuncia della Corte Costituzionale che diceva chiaramente che la parte dei fondi utilizzati per finanziare quella seconda tranche non poteva essere utilizzata. Poi si tratta di parlare nello specifico della questione di Pescara e quindi delle preferie del bandio, che noi tutti ci spieghiamo che l'anno prossimo, dopo attenta riflessione e dopo magari una verifica concreta del progetto, possa tornare ad essere finanziato, così come gli altri progetti delle altre città. Le dimissioni di Alessandrini? Le dimissioni perché evidentemente non sa che il suo partito ha votato a favore di quell'emendamento per rimediare a un suo errore e perché evidentemente prima di fare le conferenze stampa dovrebbe capire quello che succede a Roma perché altrimenti si rischia di fare cattiva informazione di quello che ha fatto il PD in questi giorni. Ma non è solo in questi giorni, negli ultimi anni, negli ultimi mesi, soprattutto correndo dietro a quel famoso evento di dicembre in cui Gentiloni faceva firmare probabilmente in periodo preelettorale queste convenzioni. Grazie.